Volevo passare una comunicazione di servizio. Siccome dall'inizio della campagna elettorale abbiamo deciso di parlare con i cittadini e di presentare il nostro programma, sono convinto che se qualcuno vuole farmi le domande sul programma, compreso Graziano che è un cittadino di Quartu, può venire sicuramente ai nostri eventi e sono pronto a rispondere a lui, così come faccio con tutti i cittadini, di tutto quello che in realtà è il nostro progetto per il rilancio di Quartu. Non credo sia assolutamente necessario uno scontro all'americana che è semplicemente uno show, la nostra intenzione non è quella di fare show ma di fare fatti concreti, così come stiamo facendo all'inizio della nostra candidatura. Quindi Graziano, se vuoi, sono disponibile ad ascoltare le tue domande in qualsiasi posto tu me le voglia fare, ma naturalmente in mezzo alla gente. Grazie, ciao. Grazie.